Ma è tutto fermo, ma non è una questione di giunta. Il Paese che è fermo ha abbandonato a se stesso. Io credo che questa amministrazione ormai è inutile per il Paese, per i cittadini e per tutti. Quindi è giunto il momento di lasciare per concedere agli elettori, fare esercitare il diritto di scegliersi un'amministrazione nuova in contrapposizione e in antitesi a questa che attualmente sta distruggendo il nostro Comune. C'è poco da dire. Possono cambiare le giunte, eccetera. Ormai questa amministrazione non può dare più nulla al Paese, su tutti i profili. Perché spesso viene visto il commissariamento del Comune come un danno per il Paese, ma ormai già noi siamo commissariati. perché loro stanno aumentando le aliquote e stanno portando tutte le aliquote ai massimi livelli. Già di fatto ci sono. Quindi un commissario prefettizio secondo me non può fare nulla di peggio di quello che sta facendo questa amministrazione. Che ripeto, io credo che ormai è al capolineo. Perché poi non si capisce questa aggiunta che non si riesce a fare. Questo sindaco che fa finta di essere assente dalla scena qui, dal Comune, però poi in realtà vi è, non partecipa al Consiglio Comunale, ma poi svolge tutti gli altri ruoli. Quindi partecipa anche alle processioni. Quindi io credo che oggi noi ci troviamo di fronte a un'amministrazione che non può dare più niente al Paese. Ha esaurito il suo percorso dopo tanti anni, perché ormai amministra da 7-8 anni, e ha dato tutto quello che poteva dare in termini negativi. È un'amministrazione che ormai non rappresenta più nessuno, perché ormai sono rimasti in pochi. Tutti i capilisti, tutti quelli che hanno consentito a questa amministrazione di raccogliere consensi, sono andati via. L'ultimo è Sidoro Rimeglio, è andato via Boccanvuso. Sono andate via tutte quelle persone che per questa amministrazione avevano una rappresentatività e avevano anche qualche rappresentanza nel Paese. Oggi questa amministrazione non può fare più scelte, deve andare solo a casa.